Eccoci qua. Ci eravamo lasciati con la promessa di proseguire con il terrorismo di Lorenzo dopo l'uscita del parcheggio. Esatto. E arriviamo, all'inizio della puntata rotta, arriviamo a casa Anna. E lì anche quella scena è stata molto lunga, molto faticosa. E anche lì provate a immaginare la ricerca della concentrazione da parte di tutti. Non solo degli attori, ma di tutta la troupe. E ad un certo punto, dal bar che si trovava nella stradina sotto, proviene della musica, anche abbastanza ad alto volume. Se non è che quando sapevano che girava lui a Trieste, facevano di tutto. Sapendo che sono un tipo abbastanza tranquillo e sollevante. Per cui io ho cominciato a litigare con il regista dicendo che io mai avrei accettato di doppiare una scena del genere, che facessero come diavolo mi paresse. E niente, il proprietario, il gestore del bar, si è rifiutato di far smettere chi suonava dal vivo, perché era della musica dal vivo. Era un momento dell'aperitivo, che a Trieste è sacro. Capirai. È lungo aperitivo a Trieste. È rumoroso. Esatto. Per fortuna che alla fine è andata tutta bene, non c'è stato bisogno di doppiarla. E della scena devo dire che siamo tutti abbastanza soddisfatti. Che poi veramente impegnava tutti moltissimo, perché era una scena in cui eravamo in cinque attori con ingressi scaglionati. La facciamo tutta di seguito. In questo spazio, che è una casa meravigliosa, molti vanno a fare le foto là sotto, peraltro. A quanto pare. A quanto pare. Però con tutto quanto pavimento a parquet. Quindi il legno che scricchiola, grandi problemi di fonica, in più tutti quanti li impegnatissimi per gli effetti da fare al momento giusto. Anche lì quella è una scena in cui vedi da un certo punto foglie che volano, un ventilatore che parte, e gli soliti effetti analogici da fare lì e poi magari cancellare. C'era una macchina complessa da portare a casa. E in cui l'è intervenuta la musica. Quindi sulla psiche provata di Fausto e di tutti noi è stato un fattore stressante che poteva essere decisivo, pregiudicante. Invece alla fine si è riuscita a portarla a casa in relativamente pochi sciac, essendo così complicata. Perché c'è gente che sta lavorando. E 3 milioni e 200 mila persone ci hanno dato ragione. Ecco, questa è un'altra puntatina e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Io vado a cena con guanciale. Paga lui.